Non lo so cos'è successo, perché alla fine abbiamo giocato bene, siamo stati in partita sempre punto a punto, abbiamo lottato, abbiamo combattuto con una bella squadra che anche nel secondo set ci ha messo in difficoltà, poi il terzo non lo so, non lo so, loro hanno messo due cose bene, noi ci siamo disuniti, tutti a guardare per terra, finita la partita. Questa è una cosa che si è ripetuta spesso anche durante l'anno, è una cosa su cui stiamo lavorando, su cui dobbiamo lavorare, però dispiace perché oggi potevamo fare molto molto di più e potevamo portarla a casa. Se avessimo giocato come i primi due set, niente di trascendentale.